E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Manifattura digitale, ovvero capacità di coniugare il saper fare con le nuove tecnologie. A specialisti e imprenditori incuriositi da questo tema, Confartigianato ha nuovamente offerto l'opportunità di riflettere sul processo di convergenza tra artigianato digitale e tradizionale. A spiegare questa evoluzione, a cui possono approdare, sostenute da quella creatività che è prerogativa dell'artigianato, moltissime imprese, c'era Francesco Pignatelli, giornalista e socio di Make Tank, che su internet propone oggetti di design personalizzabili proprio grazie a tecniche di produzione innovative, quali stampa 3D, taglio laser e Arduino. Un cambiamento che ci ha spiegato così. E' la diffusione, sempre più vicina alle piccole imprese e anche ai singoli imprenditori, di una serie di tecnologie che in realtà esistevano anche prima, come la stampa 3D o la modellazione o gli strumenti software CAD particolarmente evoluti, che permettono di realizzare oggetti di qualsiasi genere a costi tutto sommato contenuti in attività come la prototipazione, parlando di aziende, piuttosto che di veri e propri prodotti finiti quando si tratta di singoli produttori. Si dice che il digitale sia una grande opportunità per le imprese artigiane. Per uno che non è proprio addentro, quali suggerimenti possiamo dare? Ha importanza perché permette di fare più velocemente e probabilmente meglio le cose che si facevano già prima, oppure di farle in una maniera completamente nuova. Faccio un esempio che non è proprio risaputo da tutti. Molto si parla di stampa 3D e quindi vediamo queste stampanti che fanno oggetti in plastica, ma esistono delle procedure di stampa 3D che hanno sostituito il sistema della cera persa e vengono utilizzate con profitto, per esempio, dai gioiellieri, piuttosto che nuove forme di stampa 3D, di cui non si parla in televisione o sui giornali, che permettono di realizzare manufatti in metallo che altrimenti sarebbero impossibili a realizzare o si realizzerebbero con maggiore fatica. Accanto a questo vantaggio, ha spiegato Pignatelli, venne un altro molto più importante, la possibilità di ottenere una personalizzazione del prodotto ancora più spinta, offerta ad un settore, l'artigianato, che può aggiungere conoscenze, esperienza ed estro creativo. A me piace pensare che tutte le novità che in questo momento stanno arrivando sul mercato siano come i mattoncini del Lego. Sono tanti nuovi componenti che poi possono essere messi insieme grazie alla creatività degli imprenditori. Il digitale, abbiamo parlato per esempio di Internet delle cose, quindi della possibilità di portare sempre più intelligenza a componenti che prima non l'avevano, come ad esempio le lampadine, piuttosto che i caschi da motociclismo. E' difficile dire il digitale serve a questa cosa qui. Sono tante nuove possibilità che in realtà si adattano, si possono adattare perfettamente a quelle che sono le attività di qualsiasi azienda, perché appunto in sé sono mattoncini neutri. C'è solo da capire come applicarli alla propria attività imprenditoriale. E' giusto dire che serve un ulteriore sforzo creativo allora a questo punto? Sicuramente sì. Una delle cose che mi piace sottolineare è che in realtà questa rivoluzione, la terza rivoluzione industriale, lo sviluppo di nuove tecnologie nella stampa 3D, l'open hardware, non è una delle classiche rivoluzioni tecnologiche che nascono in America o altrove in cui noi siamo attori passivi. In realtà è una evoluzione del mercato che mette ancora in evidenza elementi che sono assolutamente propri delle piccole imprese e dell'artigianato. La conoscenza dei materiali, il rapporto diretto con il cliente, la capacità di adattare le proprie competenze a dei problemi completamente nuovi. Queste sono caratteristiche che la grande impresa, ma non solo quella italiana in generale, non ha più.